Daniele.tech, opinioni in open source Salve a tutti, siamo all'ottantunesimo episodio Abbiamo subito un link, credo che ve ne ho parlato poi nella scorsa puntata tramite un tweet Ovvero che hanno fatto un grafico interattivo sui cambi di casacca dei politici a Parlamento Tramite gli open data Io ho chiesto in tweet se si poteva fare una pagina web interattiva e non solo il video Ebbene è stato fatto C'è il codice su GitHub con la pagina del browser Che è il primo link che troverete nella pagina con tutti i link dei vari episodi del podcast Potete vedere in diretta e animato tutti i vari cambi di casacca che ci sono stati nel nostro Parlamento Di per sé il codice è anche interessante perché è una libreria grafica Qui viene dato in pasto un CSV da quello che ho potuto capire perché non è che ci ho dedicato molto tempo In automatico poi in base al tempo lui fa tutte le animazioni e gli spostamenti nei vari gruppi Abbiamo poi un link che invece riguarda i libri Ovvero la Aurilli che è famosa per tutti i libri di informatica e di programmazione Adesso c'è un Humble Bundle con una decina di libri Quindi vi lascia il link riguardo lo sviluppo software molto semplicemente E visto che parliamo di sviluppo software parliamo di qualcosa che non c'entra niente Ovvero Tales from Tech Support è quello che io ricordo delle storie della sala macchine Ora non so quanti di voi conoscono questo sito storie della sala macchine di Davide Bianchi Io ricordo che da ragazzino già più di dieci anni fa era per me la lettura del lunedì Io so a memoria le storie che lui ha scritto di come lui faceva il sistemista E come doveva gestire i vari utenti ai problemi informatici Per me sono state molto formative queste storie Che va detto sono storie che fanno ridere Nel senso sono storie di vita vissuta e dei problemi incontrati facendo il lavoro di sistemista, sviluppatore Eccetera Lui ne ha scritte per più di dieci anni queste storie E ce n'era una a settimana Quindi potete immaginare che sono tante E sono poi anche brevi di qualche pagina E quando Davide Bianchi Poli si è affermato e non ha più pubblicati Ho cercato altre fonti di questo tipo Ebbene c'è un subreddit che è Tales from Tech Support E stavolta vi metto un link ad una storia Praticamente questa storia, quindi ve la spoilero È stata intitolata Come non salvare soldi Ovviamente non è italiana Parte dal presupposto che è stato fatto un ragionamento in un'azienda Perché non stampiamo i nostri fogli double fass Ovvero su tutti i due slati Così risparmiamo molta più carta E meglio per l'ambiente No? E alla fine si è risultato non conveniente Perché le macchine sono più lente E se non si fanno tensioni Le stampanti con queste caratteristiche Si inceppano facilmente Perché deve girare il foglio eccetera Quindi alla fine i costi di manutenzione Di tutte le stampanti eccetera Hanno superato i costi di Che il risparmio Che è stato fatto in questa azienda Un po' per riflettere Che spesso c'è un motivo Anche se le cose si fanno E bisogna sempre valutare tutti i dettagli E non solo Soltanto il cosiddetto risparmio economico Questo è un po' per dire Quelli che io lo voglio sempre Do queste sfilettate I miei esperimenti sociali Le sfilettate è vero Passa all'open source Che è meglio perché è gratuito No non è la premessa giusta da fare Anche se qui il contesto Naturalmente è completamente diverso Abbiamo poi questa notizia Che è rimbalzata ovunque Ovvero che è stato rilasciato Un modulo per il kernel Linux In Scratch Scratch è per chi non lo conosce Il linguaggio di programmazione Pensato a bambini A blocchi Cioè fatto per i bambini Proprio per insegnare a programmare Ebbene è stato fatto un modulo Che permette di fare Dei librerie Moduli anzi Per il kernel Scritto con il linguaggio Scratch Sfruttando poi una libreria Che converte il codice Scratch In C Ad oggi non vedo Dizi pratici È da vedere Che cosa si inventano Più di tanto Poi c'è quest'altra notizia Invece è arrivata Direttamente dalla Cina Di come un hacker Abbia rubato Un miliardo di dati Alla polizia A cittadini cinesi Quindi si tratta proprio Di sai I dati personali Della polizia In Cina Dai furti Eccetera E sono stati messi in vendita Per 10 bitcoin Che sono una cifra L'articolo lo menziona Sui 190.000 dollari Una cosa del genere Poi c'è Abbiamo quest'altra invece Che io ve l'ho voluta mettere Perché effettivamente Certe volte ho apprezzato Un po' il problema Del concetto Di la dislessia La dislessia Per farla in breve E io non ne sono affetto Eccetera Quindi faccio una versione In breve Si ha delle difficoltà Nella lettura E allora esistono Dei font Ce n'è uno proprio famoso Pensato per aiutare La lettura Per aiutare La lettura Proprio i dislessici Sono dei font Che non hanno le grazie Ad esempio E hanno dei lati Delle lettere Delle parti Più spesse Per aiutarli Proprio nella lettura Ed è saltato fuori Che c'è l'articolo Che hanno dei problemi A lavorare sulle tastiere Perché hanno pure difficoltà A leggere i caratteri E quindi Questo ragazzo Ha inventato Possiamo dire così Un set di adesivi Che si piazza sopra Ai simboli della tastiera Che raggruppa le lettere Per colore E in questo modo Per i dislessici È molto più semplice Lavorare al computer Letteralmente Perché possono identificarle Anche tramite Il colore Vi lascio il link Per la notizia Per chi è interessato Poi abbiamo Quest'altra notizia Invece che dovrebbe Sollevare Un po' tutti noi Quelli che aspettavano Le schede video Perché pare che Ufficialmente È rinunciato Il crollo dei prezzi In senso Più basso Delle schede video E quindi qui viene fatto Un esempio Di come oramai Con i grafici Eccetera I prezzi Si stanno un po' più Riabbassando lentamente Invece visto che abbiamo Parlato poco fa Di kernel linux Abbiamo questa notizia Di come È stato google Utilizza un fazzy Ne abbiamo già parlato Più volte E lo testa Sul kernel linux Per trovare vulnerabilità E ne hanno Sviluppato un apposito Proprio per la memoria Perché La memoria Di un kernel È una delle parti più delicate Viste dove avvengono I buffer overflow Insomma Tutti i dati Girano nella memoria Di un computer E quindi nel kernel È fondamentale Che non possa essere Diciamo aggirati Tutti i vari sistemi Di accesso Oppure che non possono essere Inseriti dati sbagliati E cose di questo tipo Alterati Bene Questo strumento Che è arrivato Alla versione 4 Ad oggi ha trovato Oltre 300 bug Nel kernel E viene integrato Nel set di sviluppo Proprio del kernel linux Poi abbiamo Questa notizia Che a me ha fatto ridere Perché pare che Uno dei più famosi Runsware Che adesso Già non mi ricordo Più come si chiama Bene Ha una vulnerabilità Sì Il famoso lock bit Black versione 3 Ha un buffer overflow Che permette Di inserire Qualcosa per lungo Nel campo Con cui devi estidare La chiave Di decrittografia Quindi si può Diciamo Acherare Il virus Runsware Perché c'è questo Se è possibile Fare un explot Proprio sul runsware C'è un buffer overflow Bellissimo Come concetto C'è anche il link Ovviamente A proprio Alla cv E quello che volete Insomma Per maggiori dettagli Anche come Eventualmente sfruttarla E visto che Parlavamo di Cina Se ritorna in Cina C'è questa notizia Che io non conoscevo Praticamente Pare che per anni Sulla wikipedia In lingua cinese La storia Della russia medievale Fosse un'opera Totalmente Di finzione Pare questa persona Se l'ha proprio inventata Di sana pianta Raccontando storie Che non esistono Qua se fosse un racconto Fantasy Eccetera Ed è stato scoperto Recentemente Quindi per dieci anni La pagina di storia Russa medievale In lingua cinese Era falsa Totalmente E' affascinante Perché ci ricorda Poi il rischio Che si ha su wikipedia Nel senso che C'è bisogno Di una comunità Che monitora Tutto quello che avviene E anche verifica Poi il contenuto E quindi E' un lavoro Veramente impegnativo Ma spesso si vede Gente che si lamentano Degli errori Oppure perché Non esiste quella pagina O quell'altra E non pensa mai Di contribuire direttamente Al progetto Per dare una mano No? E' il classico Lamentarsi E poi non fare un tubo Che è un po' Cosa tipica Anche italiana Diciamo Un nostro sport nazionale E sempre rimanendo Il tema wiki C'è wikimedia Che ha Fatto un nuovo bando Wiki imparare 2022 Con cui danno Fino a 3000 euro Per progetti scolastici Riguardo il mondo Di wikipedia Creative commons Eccetera Quindi per chi è interessato Sapete dove trovare il link Una notizia invece Che pare che il primo Processore quantistico In silicio Si sta avvicinando Alla commercializzazione Ora io tutta la parte Di quantum computer Onestamente me ne sono sbattuto Cioè non me ne è mai fregato Niente Nel senso che va bello E' bello Però non c'è niente Ancora di concreto Perché utilizzate In specifici contesti E la peculiarità Rispetto ai processori normali E che loro fanno Tutti i calcoli matematici In modo completamente diverso E quindi Io me li immagino Mentre il processore Fa una cosa per volta Anche se è in multicore E il quantum con una cosa sola Ne fa più di una E diciamo che permette Di scalare Tutta una serie di calcoli Quindi è importante A livello di sicurezza Perché si dice che Il processore quantistico È molto più rapido Diciamo A fare il classico Brute force Ad esempio Trovare la chiave uguale Cose di questo tipo Insomma Perché ovviamente Fa questi calcoli Molto più rapidamente Abbiamo poi Mi ho messo il link Questo riguarda Django Però è molto interessante Perché lui parte Dicendo Le sei cose che faccio Ogni volta che avvio Un progetto in Django E di queste cose Ce n'è una che mi è piaciuta Perché praticamente Fa una tutta una riflessione Di come Il modello dati Dell'utente Su Django È fermo Da Django 1 E oramai Spesso per gli utenti Non c'è più la necessità Spesso di avere nome E cognome Ma basta un campo Il classico username Oppure il fatto Che l'username Può essere Solo l'email Perché la gente Spesso non si ricorda Che l'username Ha inserito Però l'email Sicuramente sì Anche perché ce n'ha Molte di meno Rispetto alle opzioni Che può essere l'username Quindi fa una riflessione Sulla tipologia di dati Di cui c'è bisogno Di un utente A livello essenziale Che oramai Spesso non ci sono Come possiamo dire In modo predefinito Perché i progetti Oramai esistono da tempo E mantengono queste caratteristiche Cambiando completamente Argomento C'è questa notizia Che ha fatto un po' Il giro del mondo Ovvero pare Che in Giappone Un fan di Nintendo Ha speso Oltre 40.000 dollari In azioni Che per me Si deve comprare Un centinaio di azioni Di Nintendo Per poter partecipare All'evento annuale Degli azionisti E quindi anche Di fare una domanda Perché Per poter fare una domanda All'evento degli azionisti Di avere minimo Tot azioni Eccetera Nel caso di Nintendo C'è proprio questa regola Blah blah E lui Che cosa ha fatto? Lui ha cobrato Tutte queste azioni Per poter fare una domanda Perché non fanno Il remake Del gioco F-Zero Visto che Nintendo Si sa È una un po' Schizzinosa Resti a parlare Denuncia tutti Quelli che fanno remake Cover delle musiche De videogiochi Cose di questo tipo Questo dimostra Un modo Anche forse Un po' Di ragionare Giapponese Perché Ha dovuto Sfruttare Questo sistema Per poter fare una domanda Certo spendendo 40.000 dollari Che io onestamente L'avrei speso in modo diverso Però L'articolo spiega Che lui Ha venduto Delle azioni Di un'altra sua Dell'azienda Per cui lavorava E quindi l'ha potuto rinvestire Quindi diciamo Niente di Eccezionale Da quel punto di vista Mentre eccezionale Quest'altra notizia Che riguarda Il contenuto cancellato Su TikTok Può essere ancora utilizzato Con Twitter Dalle FBI Perché ovviamente Ricordiamoci Che ogni cosa Che viene caricata su internet Non è detto Che venga cancellata Veramente E quindi Pare che rimanga Sui server Di TikTok Come anche la notizia Ricette Che non ho parlato Di come Diciamo che Persone cinesi Quindi da un altro paese Possono accedere I dati Di utenti americani E come potete immaginare Questo ha scatenato Una furia Perché questi Big corpo Possono essere solo americane Quindi Facebook E Twitter E tutte le altre Ma se è cinese Non va bene Come comportamento Poi c'è questa notizia Invece che pare Della Freedom Software Conservancy Ha deciso di abbandonare GitHub Perché non lo riviene Un sistema Buono per l'open source E pare che Tutta La fuffa Perché queste cose Per me sono fuffa È il fatto Che non gli va bene Il fatto che GitHub Ha rilasciato Copilot Che sfrutta Diciamo Il lavoro Di tutti i progetti Open source Però Ricordiamoci Che questa cosa Ne ho parlato Difusamente Più volte Nelle vecchie puntate Quando venne lanciato Copilot E onestamente A me Già non me ne frega più Perché Non tanto perché Non lo uso Ma perché Copilot È roba già Ritrita Ritrita E quindi ripetere Le stesse cose Non vale la pena Però Tutto il progetto Copilot E tutto il mondo Del machine learning Sfrutta il buco Che c'è Nel livello di licenze Perché nessuna di queste Include il concetto Di addestrare una macchina E quindi C'è un buco Diciamo a livello Legislativo In tutte le licenze Che è stato utilizzato Quindi Dovrebbero essere Aggiornate tutte le licenze Più che fare Tutte queste polemiche Onestamente Poi Abbiamo Questa Notizia Che viene dal W3C Pare che è stata proposta Un nuovo sistema di identificazione Come standard Naturalmente Google e Mozilla Erano contrari Per vari motivi Diciamo Uno perché non era molto Diciamo Decentralizzato E l'altro perché Non permetteva di identificarlo Correttamente Cioè Vi lascio dettaglio Perché onestamente Di queste cose Sono troppo per i tecnici Come anche questa snippet Gista Anzi di GitHub E qui viene spiegato Come mai Vyland non è per niente pronto Io ad oggi non lo utilizzo Vyland è l'alternativa Al server X Per Linux Più moderna Che ha tutta una serie Di complicazioni in meno Però Tutto questo gist Alla base È il fatto che Non è retrocompatibile Vyland Con tutto quello Che è In Xorg E quindi Significa Mettersi contro Tutto quello Che è esistito In Linux Negli ultimi vent'anni Se non è retrocompatibile Abbiamo Poi Parlando di Browser Due notizie Dirette Qualche puntata fa Vi ho parlato Di questa nuova API A livello di browser Che permette Di sanitizzare Diciamo Il codice HTML Per togliere Tutto quello malevole Eccetera E pare che c'era Una vulnerabilità Che è stata Naturalmente Corretta E quindi L'articolo spiega Com'era la vulnerabilità Com'era sfruttata Un parametro Delle SVG Addirittura Mentre abbiamo Visto che è molto simile È stata Rilasciata Una versione di Chromium Perché Era vulnerabile A un inserimento Di un certo tipo Di markup Quindi un nuovo HTML Che poteva fare Boh Casino Danni A destra e manca Come sta facendo Danni Yoncube Per PHP 8 Ora non so Quali di voi conoscono Yoncube È un modulo Di un'azienda Quindi commerciale Tutto il resto Che permette Di criptare Il proprio codice PHP Questo cosa serve Ad esempio Viene utilizzato In certi applicativi Per il controllo Delle licenze Oppure per eseguire Delle funzionalità In modo tale Che quando viene distribuito Il programma Non sia possibile Fare verso engineering O capire bene Cosa faccia E pare che questo modulo Ancora ad oggi Non sia compatibile Neanche con la 8 E ricordiamoci Che ad oggi L'ultima versione Considerata stabile Di PHP È la 7.4 Però a breve Pure questa Verrà deprecata Per passare Ovviamente alla 8 Quindi loro stanno indietro Anche perché Della 8 C'è già la 8.1 Come ultima versione E loro stanno indietro Creando problemi A tutti i hosting Perché a quanto pare Uno dei software Maggiori Dei pannelli Di gestione Dei server È proprio Fviluppare PHP E utilizza il modulo Yoncube Che però non è compatibile Con PHP 8 E questo Crea le proprie Di gestione Dei server Per tornare A Wikimedia Io questa settimana Non ho voluto mettere A posto I link Li ho solo Ammucchiati Quindi Voglio provare Un approccio diverso Anche perché Ultimamente ho visto Che c'è un calo Degli ascolti E quindi Sto facendo Un po' di esperimenti Sociali Anche da questo punto Di vista C'è questa notizia Che viene poi Dal sito di Wired Di chi spiega come Wikimedia è contro Il piano per digitalizzare Il patrimonio culturale italiano Potrebbe sembrare Un controsenso Perché Wikipedia è contro Il piano per digitalizzare Beh perché ovviamente Questo piano proposto Dal governo Ha tutta una serie Di problemi Quindi niente di nuovo Da questo punto di vista Però vi lascio la notizia C'è quest'altro qui Che invece viene Da Hacker News Praticamente Di una persona Che ha spiegato Come si è autodossato Sfruttando Cloudfront E Lambda Edge Ha ottenuto Una Bolletta Da oltre 4000 dollari E mezzo Praticamente Si è autodossato Da solo E' una cosa Che può succedere Fatto perché Alla base Non c'è un sistema Che permetta di Mettere un limite A quanto può essere speso Perché se ci fosse un limite Verrebbe bloccato In automatico E il sito Smetterebbe di funzionare Ma almeno tu Te ne accorgeresti In tempo reale Che c'è qualcosa Che non va E' cloud baby Cioè poi questa intervista Invece che viene Dal mondo Atari Hanno intervistato Il fondatore Nolan Bushnell Bushnell Che ha creato Atari 50 anni fa E gli vengono fatte Le domande Cosa vedi Secondo te Che possono imparare Videogiochi oggi Eccetera E diciamo La versione breve Che i videogiochi Di una volta Essendo così semplici Non richiedevano Nessun tutorial Per giocare Cioè tu entravi E già giocavi Oggi con i giochi attuali Non è possibile Spesso perci pratica Ti ci vuole più di un'ora Quindi Prima erano I giochi molto Più spezzerati Da questo punto di vista Passando invece All'atomozilla Del mondo Questa notizia Che a me ha detto Vabbè Cambia la vita Poco e niente Nel senso che Tutto quello che viene Definito a livello Di specifiche Dal WV3C Ha certe licenze Ma quello che riguarda Invece Le specifiche del mondo Javascript Ne ha diverse E quindi Qui si crea Crea un problema Che bisogna conoscere Più di una licenza Per poter Creare questi standard Diciamo così Perché ognuna di queste Definizioni Ha una licenza diversa E questo crea dei problemi A livello diciamo Di consistenza Ma anche di Creare degli standard Che funzionino E quindi pare che adesso Si siano messi d'accordo Per usare La stessa licenza ovunque Per le specifiche Parliamo Poi io questo giovedì Parteciperò Ma sarò soltanto lì Come supporter A questa call di Mozilla Perché Viene fatta questa call Pubblicamente Ve ne ho parlato qualche C'era anzi Una puntata Che aveva il titolo Dedicato Era la puntata 76 Ho recuperato adesso Di come Alessio Che è un dimendente Mozilla Ha integrato Coqui Che ha basato Sul modello di machine learning Di lingua italiana Ha modificato Signal Per poter Trascrivere I messaggi vocali In testo In italiano E quindi Farà questa videopresentazione Che vi spiega tutto quanto E tra l'altro Presenta la versione Web Assembly Ovvero di come Lui ha compilato Tutto Coqui Tutto quello che serviva Web Assembly Tramite browser Carica un file mp3 E gli da la versione Trascritta Quindi senza Diciamo appoggiarsi A un server esterno Ma gira tutto All'interno del browser A livello di modello Eccetera Ci sarà questa call Questo giovedì Su YouTube Se state ascoltando Questa puntata di ritardo Beh vi tocca La registrazione Mi dispiace Poi c'è questa notizia Che noi abbiamo già parlato Qualche puntata fa Di come era mai Nelle aziende Spesso ci sono i colloqui Fatti da altri Per conto di altri E adesso invece pare Che vengono utilizzati Deepfake E l'FBI ha avvisato Le aziende Di dire Per dirgli di stare attenti Anche Deepfake Allì quando fanno Le interviste Per lavori in remoto Poi c'è quest'altro articolo Che invece riguarda Il mondo PHP Di come è stata fatta Un'analisi A livello di prestazioni Sui vari sistemi Per serializzare I dati in PHP Ovvero quando tu Hai una Diciamo delle variabili Un oggetto eccetera Convertirlo E stringa Quindi serializzarlo Quella sto facendo in breve Per poi Deserializzarlo E trasformarlo In un oggetto In memoria E quindi vengono fatte Delle comparazioni Sui vari sistemi E quale è più performante Di un altro E così via C'è poi quest'altra Riflessione Su No riflessione Una discussione Su Reddit Su Vim 9 Che è stata appena N'abbiamo parlato No? Riuscita in una versione Con il nuovo linguaggio Di scripting Aggiornato Verso No verso scusatemi Contro Lua Ecco E la spiegazione Più semplice È che Vim Script È un linguaggio complesso Arcaico E funziona solo dentro Vim Lua È un linguaggio ad oggetti Moderno Facilmente estendibile E puoi sfruttare Tutta la comunità Del linguaggio Lua E anche tutte le librerie Del linguaggio Lua E quindi puoi farci Molte più cose Perché Il progetto intorno È molto più importante Diciamo È sviluppato Rispetto a questo Di scripting Cioè Tornando al mondo Firefox È stata Nell'ultima versione Ora avete Una funzionalità Che vi permette Di rimuovere In automatico I parametri Nell'URL Per il tracciamento Alle web marketing Di solito Sono i parametri UTM Però Firefox ha una lista Che è possibile Poi nell'opzione Aggiungercene altri Per automatico Rimuoverli Io ho un'estensione NetURL Che lo faceva In automatico A questo punto Potrò toglierla Senza Ripensamenti Poi Passando invece In Italia Abbiamo una notizia Che viene dalla CGA Di Mestre Che ha detto Che Confermando Analizzando i dati Pare che lo Stato Si è dimenticato Di pagare 5 miliardi Ai fornitori Su 18 E voi dovete sapere Per chi è un dipendente E non si è mai trovato Dalla parte dell'imprenditore Lo Stato È uno dei peggiori Pagatori che ci sia Innanzitutto Prendere lavori È veramente complicato Scartoffi su scartoffi Di avere certificati Certificati Di partecipare a un bando Quindi ogni volta È un azzardo E quando si partecipa A queste cose Si fa sempre una cifra più alta Per compensare Tutto il lavoro Che viene fatto Prima per poter partecipare Al bando Nel caso che poi Si vinca Lo stesso bando E poi si viene pagati Anche in ritardo Quindi allora dici Io lo faccio più caro In modo tale Che poi Almeno Sto meglio Quando mi pagano Nel mentre Perché può darsi Che lo faccio adesso E mi pagano Fra un anno o due Quindi è un bel problema Poi pare che la PEC È diventata Uno standard europeo Io Non ho trovato Maggiori informazioni In merito Pare che l'agenzia europea Ha diventato Il nuovo standard Ezi Non è ben chiaro Quali siano le differenze Tra la PEC italiana E questa europea Io sono molto curioso Sicuramente la prima cosa Sarà evitare Tutto il file XML In italiano Quindi è tutto da vedere Cosa comporterà Questa Cosa Poi vi voglio condividere Un articolo Sulla lunga storia Dell'obbligo del POS In dieci anni Con sette governi Trovate il link E non voglio Dilungarmi Anche perché credo Averne già parlato Del fatto di come I commercianti Pagano un sacco Di commissioni Tra l'affitto Del POS E poi Di solito È almeno un 2% Più una quota fissa Per ogni Pagamento Quindi Dipende poi dal servizio Che si usa Quanto cambia la commissione Se la commissione c'è Sotto una certa cifra Bla 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 Arrivando in conclusione Di questa puntata Che ho cercato di fare breve Visto che dopo tutto Che è l'estate Forse c'è anche un calo Perché è dovuto All'estate stessa Cioè Io ho reso conto Mensile di giugno Delle mie attività Nel mondo open source Io vi lascio il link Come solito In descrizione Che vorrei vedere Cosa ho fatto E anche L'ultimo articolo Che ho scritto Di quello di Dalle Che credo di averne già parlato Con il album Su Flickr Con oltre 89 Immagini che ho generato Con delle frasi Che potete sbizzarrivi A vedere Sono su Flickr Ho caricato tutto lì l'album Ricordo ovviamente Che potete mandarmi Qualunque vocale Presentare qualunque progetto Idea Insultarmi no Però diciamo Scrivermi Non è un problema Per niente Quindi vi invito A farvi vivi E in questo punto Io vi saluto Ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao